grazie a un messaggio per il numero 128 128, chi è questo? ragazzi stanno arrivando messaggi a Google 128, ciao come mi chiami? Angelo, c'è che lui che lui c'è? oh, mi piacciono questi abbonamenti qua abbonamenti ascolta, tu da dove vieni? rubiera rubiera, perfetto e cosa fai di bello della vita? agente romanzo cosa vedi? è diventabile anche campione in macchina se vedi un salamino vabbè, donna ideale per te? sì, lo so tranquilla come quella che è davanti? come l'avanti insomma, non è un po' agitata davanti non è un po' agitata loro due no loro due no grazie c'è un amico c'è bisogno che in qua ci sono le tranquille ah, in qua sono più tranquille va bene, ecco qua grazie, grazie benissimo andiamo avanti abbiamo un messaggio per la numero 11 chieda 11 ragazzi è qua è la cosetta dillo, dillo non è valido non è valido non è scritto chi ha scritto ehi, abbiamo una scheda nulla ragazzi vi dovete firmare uomini non conta niente scritto possibile che siano così timidi no, non è un messaggio per te no no ma insomma grazie grazie